In che modo contribuisce la tecnologia al sviluppo di questi vestiti smarti? Vibram ha sempre lavorato con il sole performante, si tratta principalmente con il design, il processo e il materiale. Ora, con le nuove tecnologie che arriva, abbiamo scoperto alcune nuove opportunità per aggiungere nuove funzioni in usare qualcosa come l'additivo o tecnologie di vestiti. Quindi stiamo cercando di muovere il nostro prodotto historico che è sempre relato alla performance, al mercato specifico, con funzioni addizionali come la connessione all'Internet con l'additivo, per creare, posso dire, alcuni componenti exotici che non potevamo produrare prima con la metoda standarde. E con tutte queste nuove tecnologie pensiamo che possiamo passare da un sole performante a quello che chiamiamo di una soluzione smarte, customizzata.